Canale Battagli si rimette in forma. Dall'inizio della settimana il consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno ha infatti dato il via all'intervento di manutenzione ordinaria dello storico collegamento idraulico di derivazione del fiume Arno. Canale Battagli è un canale che attraversa due comuni, in particolare il comune di Montevarchi e San Giovanni Valdarno e si estende per 14 km. È un canale polifunzionale, ovvero a funzione di canale irriguo, quindi utenze domestiche e non domestiche. Ha anche una presa di acqua pubblica, quindi idropotabile. Industriale perché serve lo stabilimento Polint. Noi abbiamo come consorzio la manutenzione ordinaria del canale Battagli tramite una convenzione appunto con i due comuni di Montevarchi e San Giovanni firmata annualmente. La manutenzione ordinaria praticamente si svolge con l'esecuzione di sfalci vegetazionali che vanno a interessare lo sfalcio della vegetazione sul corso d'acqua, nell'alveo e lungo gli argini. In particolare vengono fatti tre sfalci durante tutto l'anno con anche la pulizia del fondo dalle piante acquatiche e la pulizia delle griglie che si trovano a monte dei sifoni per la loro protezione e che sono sifoni di attraversamento di corsi d'acqua importanti. Gli interventi di manutenzione vengono fatti appunto per mantenere la funzionalità del canale, quindi il libero deflusso delle acque e permettere appunto i prelievi ad uso irriguo e ad uso industriale, nonché alla manutenzione e appunto al libero deflusso.